John Landau è morto a 63 anni di età, che era costui, era il produttore premio Oscar molto noto perché lavorò ebbe la fortuna lavorare col famoso regista James Cameron nella pellicola intitolata Titanic ma anche nella serie intitolata Avatar o Avatar. Purtroppo una malattia grave come il cancro si era portato via per sempre. Era nato nel 60, a New York, la grande mela, The Big Apple, tantissimi messaggi di pieno, totale, completo, cordoglio che si strigono nel dolore. Era un artista visionario, uno straordinario talento, diede vita alle storie più indimenticabili del grande schermo. Riuscì a contribuire all'industria della cinematografia lasciando un seno importante, rinnovativo, innovativo e di grande bellezza. Produttore iconico di successo, una persona veramente unica, favolosa, carismatica, questo era John Landau che se ne va a 63 anni di età. Purtroppo il cancro lo ha uscito, fatto fuori. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questo video non vuole eredere la pravasi di John Landau, né della sua famiglia, ma solo informare. Adesso iscrivetevi, commentate, John Landau, riposi in pace.